Colore petrolio, il fascino di un mix fra verde e blu. Il colore petrolio, con le sue sfumature blu e verde, affascina sempre di più per la sua capacità di creare ambienti eleganti e rilassanti. Dagli esperti, definito come un tocco di serenità in casa, il petrolio è ideale per pareti e arredi, sia in stile classico che moderno. Accostamenti di tendenza lo vedono protagonista in soggiorni e cucina, dove si sposa perfettamente con legno e accenti metallici. Nel bagno e in camera da letto, il petrolio esalta con discrezione e classe, permettendo combinazioni chic con tinte bianche o dorate.